Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo meditare la parola di Dio come la troviamo scritta in Salmo 136. Un Salmo da voi sicuramente ben conosciuto, insieme ricorderemo solo degli aspetti della parola di Dio, vogliamo prestare attenzione, concentrati sulla parola che il Signore ha preparato per ognuno di noi. Salmo 136 Amén, il Signore sia lo dato. Celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. Celebrate il Dio degli Dei perché la sua bontà dura in eterno. Celebrate il Signore dei Signori perché la sua bontà dura in eterno. Colui che solo opera grandi prodigi perché la sua bontà dura in eterno. Colui che ha fatto con sapienza i Cieli perché la sua bontà dura in eterno. Colui che ha steso la terra sopra le acque perché la sua bontà dura in eterno. Colui che ha fatto i grandi luminari perché la sua bontà dura in eterno. Il Sole per regnare sul giorno perché la sua bontà dura in eterno. E la luna e le stelle per regnare sulla notte perché la sua bontà dura in eterno. Colui che percosse gli egiziani nei loro primogeniti perché la sua bontà dura in eterno. E fece uscire Israele di mezzo a loro perché la sua bontà dura in eterno. Con mano potente e con braccio teso perché la sua bontà dura in eterno. Colui che divise il Mar Rosso in due parti perché la sua bontà dura in eterno. E fece passare Israele in mezzo ad esso perché la sua bontà dura in eterno. E travolse il Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso perché la sua bontà dura in eterno. Colui che guidò il suo popolo attraverso il deserto perché la sua bontà dura in eterno. Colui che percossere i grandi perché la sua bontà dura in eterno. E uccise i repotenti perché la sua bontà dura in eterno. Sicon, re degli Amorei, perché la sua bontà dura in eterno. E ok, re di Basan perché la sua bontà dura in eterno. E diede il loro paese in eredità perché la sua bontà dura in eterno. In eredità Israele, suo serbo, perché la sua bontà dura in eterno. Colui che nella nostra umiliazione si ricordò di noi perché la sua bontà dura in eterno. E ci ha liberati dai nostri nemici perché la sua bontà dura in eterno. Colui che dà cibo a ogni creatura perché la sua bontà dura in eterno. Celebrate il Dio del cielo perché la sua bontà dura in eterno. Accomodate, gloria a Dio. 26 volte, penso che vi avete ascoltato, 26 volte uno stesso verso di Pedersi perché la sua bontà dura in eterno. Vedete, questa mattina insieme non andremo solo ad indagare sul testo. Usciremo un attimo dal testo senza tuttavia uscire dal contesto di questo salmo meraviglioso. Ma dobbiamo capire perché lo scrittore ha scritto per ben 26 volte la sua bontà dura in eterno. Quante volte abbiamo considerato questo salmo e abbiamo parlato della bontà e della misericordia di Dio. Ora, sapete, questo salmo con molta probabilità è stato redatto da Salomone in un periodo particolare della vita del popolo di Israele in occasione proprio della dedicazione del Tempio di Gerusalemme. È una struttura straordinaria, un'architettura, fratelli, magnifica, un'imponenza unica tanto da essere il banto del popolo di Israele e da essere annoverata tra quelle che erano le meraviglie del mondo. Ben presto Israele si abituò a vedere la struttura del Tempio e la sua bellezza senza tuttavia coglierne il significato più profondo, la presenza di Dio all'interno di quel Tempio. Il Tempio senza il Signore diventava semplicemente vuoto, diventava semplicemente mura, mattoni, senza nessun tipo di senso. Ora, quando Israele quindi abbandonava il Signore, abbandonò il Signore, quel Tempio era totalmente vuoto. C'è una singolare frase ripetuta, abbiamo detto prima, ben 26 volte. E magari il resto da Salomone, vedete, attraverso questo cantico, attraverso questo Salmo, ripetendo sempre questo concetto, desiderava che questo concetto fosse ben impresso nel popolo di Israele. Quando ascoltiamo anche una musica, e gloria a Dio per la musica cristiana che ascoltiamo, gloria a Dio per la musica cristiana che ascoltiamo, quando ascoltiamo spesso viene ripetuto un concetto. Perché? Perché quel concetto deve essere impresso nel cuore. Era un po' lo stesso schema utilizzato dal Salmista. Il concetto deve rimanere, vedete, il Salmista non esalta la struttura, ma la benedità del Signore, che dura in eterna. Non esalta l'architettura, ma la presenza di Dio, che è essenziale, benediera, deve essere concreta all'interno del Tempio, e deve invadere tutta quella struttura. E gloria a Dio per questo, fratelli e sorelle, una misericordia continua, 26 volte, una misericordia, una benedità continua, costante, ma il motivo per cui Salomone dovette ripeterlo in più di un'occasione è perché dovevano ascoltare il senso e il concetto più unico e più importante, quella benedità, quell'attributo di Dio, quell'essenza doveva essere presente. La sua misericordia, la sua benedità è stata per il popolo di Israele di grande efficacia. Per la sua benedità il popolo di Israele è uscito dal paese d'Egitto. Per la sua benedità il popolo di Israele è riuscito ad essere sfamato di acqua, di cibo dall'alto, ad essere provveduto dal Signore. Per la sua benedità il popolo di Israele ha vinto i nemici. Per la sua benedità il popolo di Israele ha visto le acque aperte, una strada, insomma, all'interno di queste acque. E per la sua benedità che il popolo di Israele ha realizzato le promesse del Signore, per la sua benedità il popolo di Israele ha visto abbattuti i nemici davanti a Lui. Fratelli e sorelle, per la sua benedità, per l'essenza di Dio in noi, che noi vediamo le benedizioni del Signore nella nostra vita, come il popolo di Israele. Per la sua misericordia il Tempio fu costruito per accogliere la presenza di Dio ed è per la sua misericordia che ancora oggi Dio costruisce dei templi per accogliere la sua presenza. E se questo Tempio non è ancora presente nella tua vita, Signore fai di me un Tempio per accogliere la tua presenza, per vedere e toccare con mano la tua benedità. gloria al nome del Signore. È per la sua misericordia che Israele ha potuto godere di quella presenza all'interno di quel Tempio ed è proprio per la sua misericordia che noi oggi possiamo godere della presenza di Dio nel nostro cuore, nella nostra vita, godere dei suoi benefici. È la sua benedità, la sua presenza, la sua potenza, la sua sicurezza, la sua pace è quella di cui abbiamo bisogno. Nient'altro, fratelli, questo abbiamo bisogno, di Dio in noi. Amen, fratelli. Ecco perché viene ripetuto così tante volte. Notate la benedità, la sua presenza, la sua essenza, mirate ad essa. Eppure il popolo cominciava a vedere l'architettura del Tempio. Eppure il popolo cominciava a vedere la struttura del Tempio. Eppure il popolo cominciava a compiacersi dell'estetica, dell'apparenza, di quello che era fuori. Fratelli, oggi viviamo, e il fratello l'ha detto anche prima, no? Più che Rolex e borsette, gloria a Dio per la presenza di Dio. Viviamo in un mondo dedito, molto all'apparenza. È così. In un mondo che cerca in qualche modo di esaltare la struttura. In un mondo che cerca in qualche modo di toccare, di abbracciare l'architettura. In un mondo che cerca di evidenziare i caratteri fisici, i caratteri estetici. È un mondo che dà spazio all'evidenza. A volte, non so se ci avete fatto caso, parlo ai giovani, ma parlo a tutti noi, perché credo la maggior parte utilizza anche i social network. A volte sembra che se tu non pubblichi una foto con la tua fidanzata, tua moglie o tuo marito, sembra che tu non sei fidanzato e c'è qualche problema a casa. Perché? Perché l'estetica vale tutto oggi. Se lo fai vedere c'è, se non lo fai vedere significa che non c'è. Signora, abbi pietà, meno male che si sono ancora i riservati. Glorie a Dio. E' come del Signore per questo. Oggi è così, fratelli. Ciò che si vede è ciò che si è. E sembra che ciò che non si vede non si ha, non si è. Signore, facci riacquistare la capacità di vedere oltre il visibile. La Chiesa ha sempre avuto questa capacità. E oggi ancora, fratelli, molti lo hanno perso. Signore, vogliamo riacquistare questa capacità di vedere oltre il visibile e di andare a vedere il cuore, i sentimenti, la testimonianza vivente e concreta. Non l'apparenza. Glorie al nome del Signore. Fratelli cari, il materialismo sta dilagando nell'umanità. Oggi tutto quello che risulta essere, insomma, importante è quello che è materiale. Gli uomini e le donne vivono solo ed unicamente di struttura, di architettura. Sembra esserci una perdita dilagante dei valori, di quei valori antichi, di quei valori di cui si sono nutriti i nostri genitori, i nostri nonni, di cui si sono nutriti coloro che sono venuti prima di noi e hanno fondato, e hanno veramente dato la propria vita per Cristo e hanno veramente con l'umiltà, con la semplicità, lavorando dietro le guindi, costruite le basi. Glorie al nome del Signore, delle chiese, dei tempri, glorie al nome di Dio. C'è una perdita delle virtù, c'è una perdita delle qualità. Eppure, notate, lo Spirito Santo, certamente riferendosi alle donne, ma riferendosi anche a tutti quanti, spiega all'interno di un verso della parola di Dio, in primo Pietro, ciò che dovremmo fare veramente. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, che consiste nell'intrecciarsi i capelli, mettersi addosso gioielli d'oro, indossare belle vesti, ma notate, ma quello che è intimo è nascosto nel cuore. La purezza incorruttibile di uno spirito dolce e pacifico, che agli occhi di Dio è di grande valore. Così si tornavano una volta le sante donne che speravano in Dio. Ma questo vale per tutti quanti noi. La ricerca di quello spirito, la ricerca di quella presenza, la ricerca, fratelli e sorelle, di quella purezza incorruttibile. Glorie al nome del Signore. Valori e qualità di un cuore approvato davanti a Dio è quello che dobbiamo ricercare. Oltre la struttura, oltre il Tempio di Gerusalemme, deve esserci la presenza, l'essenza di Dio, la benedità del Signore. E i social cosa fanno? Propongono questa idea dell'evidenza come il tutto. Oggi, soprattutto per i ragazzi, e ne vedo parecchi in mezzo a noi, grazie a Dio, oggi se ci sono tanti like vale qualcosa. Se non hai tanti like non vale niente. L'apparenza, l'apparenza, la struttura. Oggi, insomma, se non hai tante condivisioni, sei diverso dagli altri, sei appartato, sei escluso. Sei escluso dalla società. Vedete la Chiesa in che mondo sta vivendo oggi? Eppure la Chiesa è diversa. Noi non dobbiamo essere come il mondo, guardare l'architettura. Noi siamo di coloro che guardano il cuore. E il mio cuore deve essere pieno del Signore. Non la mia estetica, ma il mio cuore deve essere pieno di Dio. Altri, ci sono tanti che vivono di apparenza, ci sono tanti che vivono di struttura esterna, e poi li vai a guardare dentro e sono morti, freddi, e sono vacillanti. Altri invece lavorano dietro le quinte, in silenzio, nella semplicità, nell'umiltà, e fanno un lavoro immane. Gloria al nome del Signore. La Chiesa ha perso la sensibilità e quella visione che Dio desidera guardare oltre il visibile. Ciò che, fratelli e sorelle, include la presenza di Dio in un cuore, è ciò che viene approvato dal Signore. Se tu desideri quella presenza nel tuo cuore, sei approvato da Dio. Questo il Signore sta dicendo a te. Guarda la sostanza, guarda a farti riempire il cuore dalla potenza di Dio, guarda a farti riempire la tua anima dalla presenza di Dio, da quel manto meraviglioso visto da Esaia, all'interno di quella chiamata che invadeva tutto il Tempio e che riempiva di gioia e di sicurezza anche quell'uomo in quella sua chiamata. Signore, abbi pietà, abbi pietà di noi. Aiutaci a non vedere l'architettura, aiutaci a riconoscere che la tua presenza deve essere tutto per noi. Notate che quando Gesù entrò in quella casa di Marta e Maria e quando Gesù era lì presente in quella casa o Marta era affaccegata per poter costruire la migliore architettura possibile, Maria aveva scelto la parte buona, quella più importante ai piedi di Gesù perché stava andando a nutrire la sostanza, quello che serviva per la sua vita, nutrirsi di quella parola, a riempire quella casa, quel suo cuore, della sua presenza, della sua parola, gloria al nome del Signore. E noi dobbiamo scegliere come Maria la parte buona, la parte importante, la presenza di Dio. Ecco che quel Tempio viveva un'architettura straordinaria ma senza la presenza di Dio era totalmente vuoto. La presenza di Dio è quello di cui abbiamo bisogno e allora permettetemi, fratelli, permettetemi di fare un invito ai vostri figli, poi passo a voi, un invito ai vostri figli, ai vostri ragazzi, permettetemi di farlo, giovane, sorellina, fratellino, in mezzo a noi, se cerchi anche un fidanzato, se cerchi anche, insomma, una fidanzata, non cercarla, bella, ricca, cerca un fidanzato, una fidanzata piena della presenza di Dio. Amén. Fratelli, sorella, giovane, che sei in mezzo a noi, cerca la piena della presenza di Dio perché altrimenti è architettura vuota, altrimenti è tutta apparenza, è niente sostanza. E poi sapete cosa succede? I guai nelle case. Succedono i guai nelle case. Succedono i guai, fratelli e sorelle, perché non si vive la presenza di Dio, perché abbiamo scelto l'architettura, non abbiamo scelto la sostanza, la profondità. Abbiamo perso quello che il Signore ci ha dato, guardare oltre il visibile, guardare il cuore. Quando Samuele scelse Davide, cosa si presentò davanti a Samuele? Un uomo grande, tutti i fratelli di Davide, tutti imponenti, forti, no? Dio aveva scelto i più piccolini, aveva scelto l'ultimo, perché egli era pieno della presenza di Dio e il suo cuore era un cuore secondo Dio. Glorie al nome del Signore. E' scritto allora ecco, in primo Samuele, capitolo 16, che il Signore disse a Samuele, non badare al suo aspetto, né alla sua statura, perché io l'ho scartato. Infatti il Signore non bada a ciò che colpisce lo sguardo dell'uomo. L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Glorie al nome di Dio. E noi fratelli dobbiamo essere approvati davanti alla presenza del Signore. Fratello, sorella, tu che sei un pochino più grande, non cercare il materialismo, non cercare la ricchezza continua. A volte c'è il continuo a non accontentarsi. Dio ti ha dato un lavoro e magari anche nell'immoralità, nell'illegalità, non fai altro che aumentare, cercare di accrescere quelle ricchezze che il Signore non ti ha dato. Il Signore ti ha dato quello e tu quello devi nutrire, alimentare, devi vivere, evitando gli eccessi che il Signore non gradisce. Non andare nel materialismo, non ricercare le cose materiali, ma è scritto nella parola di Dio cercate il reno e la giustizia di Dio. Le altre cose Dio ve le darà fra le sorelle. Le altre cose il Signore ve le darà quando quel ricco sotto accumulava, accumulava, e poi la tua anima oggi stessa sarà di domandare che ne sarà di tutto questo. Facciamoci ricchi davanti alla presenza del Signore. È la benedizione di Dio che è ricca, che rende ricco un uomo, è una donna. Così è scritto, così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Noi dobbiamo essere ricchi davanti al Signore. Fratello, sorella, non cercare di appagare i tuoi valori esteriori, di vivere, insomma, appagando la tua carnalità, il tuo fuori, fuori, ma appaga ciò che è dentro. Appaga ciò che è dentro. Non cercare la Chiesa grande, la Chiesa bella, ma cercare la tua Chiesa, quella che Dio ti ha affidato. Cerca la presenza di Dio. Cerca il battesimo nello Spirito Santo, i doni dello Spirito Santo, i carismi dello Spirito Santo. Ricerca. Dio questo vuole da te che tu vai oltre il visibile e cerchi ciò che è invisibile. Dobbiamo essere in grado di guardare dentro, dobbiamo essere in grado di cambiare direzione del nostro sguardo, non solo guardare fuori e spesso siamo intenzionati a guardare fuori, anche perché poi ci si guarda il fratello, la sorella, si guarda l'altro e gli altri sono sempre peggio di noi. Fratelli, sorelle, no, no, guarda a noi, guardiamo noi, dentro di noi, cerca di essere un uomo approvato davanti a Dio. Tu, tu, che ti importa di lui, dirà il Signore. Tu, seguimi, tu, seguimi, tu, cerca di ricercare la presenza del Signore. Questa sera, questa mattina, perdonate l'abitudine, questa mattina desideriamo ricercare quella presenza. Quanti lo desiderano? Lo desideriamo, fratelli, gloria, Signore, riempici di te. Questa parola non la dimentichiamo, ma vogliamo dire, Signore, fammi un tempio santo, Signore, fammi un tempio pieno e la tua presenza. Signore,